Buongiorno, sono Hermes Paoletti, rappresento la FreeEdit SRL. Per noi è stato molto importante partecipare a questo progetto pilota e siamo anche molto orgogliosi di essere stati selezionati per un progetto di questo tipo. Da sempre la FreeEdit crede fortemente nella sostenibilità del nostro territorio e crede che le piccole e medie imprese possano partecipare, tanto quanto le grandi, ad un progetto di questo tipo. Abbiamo avuto Walter Francesco come consulente e siamo rimasti molto molto contenti in quanto ha dimostrato una proattività nei confronti della nostra azienda, cercando di capire quali sono i pro e i contro di una piccola media impresa. Ci ha supportato nel nostro percorso verso la sostenibilità, dimostrando veramente di poter essere un valore aggiunto per la nostra azienda. Questo fa capire che i giovani al giorno d'oggi possono veramente fare la differenza per il futuro rispetto a quello che poteva fare la nostra generazione. È stato bello anche vedere come sono stati preparati questi ragazzi dall'università. La differenza la fa il fatto che è potuto venire all'interno della nostra azienda facendo il consulente in tutto e per tutto. La principale esperienza che ci siamo portati a casa è quella che anche le piccole e medie imprese possono dare un valore aggiunto e un contributo importante nella sostenibilità, in quanto non solo le grandi aziende hanno un impatto su quello che può essere la sostenibilità al giorno d'oggi. Abbiamo avuto la prova quindi che l'interazione tra enti pubblici e aziende private possano innescare un circolo virtuoso che vada a creare una sostenibilità per tutto quello che è il nostro territorio. La sua competenza ci ha permesso di fare una fotografia allo stato attuale di quello che è la nostra azienda. I risultati metterli a confronto con quelli che sono le altre aziende del territorio e successivamente proporre quelli che possono essere le azioni di miglioramento da fare per poter aumentare quello che è il grado di sostenibilità. Il nostro obiettivo quindi è stato raggiunto in quanto era quello di fare una fotografia su quello che sono i nostri pregi e i nostri difetti in ambito di sostenibilità e questo poterlo migliorare con le prossime azioni che andremo a fare. Per un'azienda piccola come la nostra sarebbe sicuramente molto utile poter continuare ad avere una guida come quella che abbiamo avuto in quanto al nostro interno non abbiamo queste competenze. Questo ci permetterebbe di fare lo step successivo. Se Transition Farm prevede lo step successivo saremo molto contenti. Grazie. Grazie a tutti.